ciao amici volevo ringraziarvi per tutti gli auguri di buon compleanno che mi avete fatto oggi circa xx lune fa nascevo venivo alla luce in questo mondo all'ospedale sant'anna di ferrara sono nata prima del previsto la mamma mi ha sempre detto che avevo molta fretta di venire a questo mondo e quindi sono nata ero piccolina uno sgorbietto sembrava una scimmietta piena di capelli un po rugosetta e la mamma ha detto oddio cos'è sta roba speriamo che almeno sia brava ma brava non ero perché avevo sempre un sacco di problemi insomma stavo male piangevo e sarà per questo che poi da grande sono diventata naturopata per risolvere tutti i problemi e sono molto felice di condividere questa esperienza con voi di naturopatia di salute naturale non so perché vi ho raccontato questa storia quest'oggi sarà una reminescenza astrologica del 16 novembre in ogni caso grazie grazie a tutti per i vostri auguri come sapete anche dagli anni scorsi a me piace molto dire che oggi è il mio compleanno e ricevere gli auguri e anche festeggiare anche se in realtà oggi un po lavorecchiato un po festeggiato festeggerò di più domani andando alle terme che il mio regalo preferito una fantastica giornata di relax terme massaggi sauna piscina termale fantastico cosa c'è di meglio insomma prendermi una giornata tutta dedicata al mio benessere mi fa tantissimo piacere chi verrà con me indovinate ma lui squaletto nel suo ambiente naturale l'acqua però questa volta squaletto acqua termale mi raccomando restiamo sempre in contatto non solo nelle ricorrenze ma tutti i giorni e un grandissimo fortissimo abbraccio tanto amore a tutti voi ciao